Ricky eccoci qua! Grande Dado! Allora sono passati più o meno due anni e mezzo da quando ti ho conosciuto. Grazie a te sono riuscito a intervistare Mike Mangini al concerto dei Dream Theater. Fuori dal concerto ti ricordo ho detto Ricky ma io ti ho conosciuto quel giorno. Ho detto ma non sapevo che tu avessi questa skill incredibile della velocità. Abbiamo fatto un video insieme che ha avuto un grande successo eccetera eccetera. Da lì in poi sono cambiate tante cose. Durante questi due anni e mezzo c'è stato in mezzo a una pandemia un disastro. Nel frattempo tu sei diventato un batterista super 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 popolare a livello internazionale. Grazie a te. No grazie a te. Beh grazie a tutti e due allora. No grazie a te. Io posso solo dirti che ti ho solo consigliato di usare. Esatto per questo stavo stavo per dire proprio questa cosa. Perché quando ti ho conosciuto. Sì non ero assolutamente proprio pro social ero completamente al di fuori da questo settore e no ho seguito il tuo consiglio e direi che ha funzionato. Quindi bravissimo. Talent scout perfetto. Come l'hai sviluppata? Io mi ricordo che tu mi hai detto io non riuscivo a andare più veloce di una certa di un certo bpm anche abbastanza basso. La storia è proprio questa. Non ero assolutamente in grado di spingermi oltre 90 100 bpm non era neanche nelle mie intenzioni prima di arrivare appunto a quello di cui ti parlerò cioè andare oltre con la velocità. Era un batterista normale studiavo il conservatorio avevo 13 14 anni e conservatorio lezioni private batteria perché comunque il conservatorio era un metodo ancora percussioni quindi classica e tamburo. Ecco l'unica cosa realmente che si avvicinava alla batteria era era il pad o il tamburo niente di più. Quindi prendevo anche lezioni di batteria ecco. Nel 2003 credo quindi parecchio tempo fa alla scuola dove studiavo a Padova invitarono Mike Mangini che io non sapevo assolutamente chi fosse. Andai alla clinic senza aspettarmi nulla e fui ovviamente colpito sconvolto perché già è un batterista fenomenale in più con le doti che avevo quindi da ragazzino fui rimasto ancora più sconvolto ma soprattutto notai questa grandissima velocità del colpo singolo che che aveva e ancora tutt'oggi ovviamente Mike. Però da quel giorno andai a casa con quella voglia di spingermi sul singolo oltre. Ma non hai rischiato di farti male? Sì sì l'ho fatto anche. No perché poi appunto mettere a una tecnica e divulgarla significa partire da errori problemi perché comunque non sai come fare quindi mi sono messo sul pad con quello che avevo cioè quei mezzi tecnici e l'impostazione che avevo e cominciai a sperimentare. Se vuoi ti faccio vedere cosa cosa ho fatto nel più o meno nel dettaglio adesso se la memoria non mi inganna però. Cioè mi stai facendo vedere il percorso errato che stavi facendo. Errato comunque gli step che mi hanno portato a capire qual era la meccanica di movimento che mi ha cambiato poi realmente a livello di feeling e di velocità. Quindi partendo da un'impostazione classica che abbiamo più o meno tutti e che comunque mantengo cioè quando sono la batteria un paradido lo faccio così. German American chiamiamola come vogliamo comunque l'impostazione è questa quindi con le mani con la bacchetta con le bacchette sul rullante così aperte a triangolo come ci insegnano fin da piccoli. Da qui ovviamente non riesci se non con i rimbalzi a generare velocità se no appunto quella che già avevo. Addirittura suonavo col polso chiuso quindi no zero. Cioè proprio polso così senza rimbalzi senza Müller e quindi arrivavo lì. Perciò tentando di spingermi oltre ho inserito naturalmente il finger che è una tecnica molto conosciuta utilizzata dai batteristi sia nel jazz che nel metal che si spingono e cercano velocità e rimbalzo anche però soprattutto a sinistra ho notato che non ce n'era cioè non ho la stessa elasticità che ho a destra nei tendini quindi questo movimento questo questa leva che cercavo di generare non andava. Non pareggiavi la mano a destra? No e soprattutto anche a destra non ce n'era però cosa ho notato a sinistra che mi ha aiutato che da qui che non funziona spingendo un po di più vedi mi andava mi si innescava automaticamente un movimento particolare chiamiamolo così poi te lo spiego nel dettaglio perché l'ho analizzato l'ho studiato di questo genere sul polso e quindi ripartendo poi con la destra da qui sono arrivato a capire che c'era una chance di di mettere in tensione questa parte del polso e ho notato che il pollice era quello che mi faceva la differenza quindi partendo dalle dita ho spinto ancora di più e ho visto questo questa sorta di rotazione nel polso quindi un beneficio istantaneo sì perché in realtà sbagliando perché poi a sinistra ho cercato di riprodurre la cosa ma non avendo coordinazione che poi ci arriviamo anche lì al discorso coordinazione controllo del colpo della postura della mano mi sono fatto male mi si è calcificato a nazisti perché era proprio vedi al limite cioè non era pulito e volevo per forza comunque insistere per arrivarci ma comunque fondamentalmente quello che è successo è che a destra sono arrivato agilmente in una ventina di giorni a 150 bpm quindi sei passato da 90 a 150 bpm ok esattamente si è bloccato un meccanismo con una mano però poi appunto il problema qual è stato che non c'era consistenza magari nel colpo non c'era continuità non c'era scelta possibile di dinamica o anche semplicemente di suonarlo a colpi alternati perché era un pastrocchio cioè non era pulito non c'era controllo quindi analizzando questa cosa che era già praticamente il passaggio finale cioè ero già arrivato alla fine ho già concluso il percorso ma non avevo studiato step che per me neanche esistevano precedenti però ho dovuto metterli cioè ho dovuto per ottimizzare sì però esatto però essendomi reso conto del potenziale ho fatto passi indietro ho detto ok analizzando il movimento che è questo come posso fortificarlo aumentarlo controllarlo e ho pensato che l'unica soluzione potesse essere cominciare a studiare il movimento nel dettaglio lentamente a mani nude perché? perché il momento in cui ti rendi conto che il fulcro di tutto è il punto di rotazione cioè il pollice fisso come perno così ho dovuto per forza isolarlo e cominciare a lavorare solamente sul movimento del polso prima ancora di andare ad innescare le dita cioè coinvolgere nel movimento perché se non ho capito male questo è un movimento combinato di polso dita c'è dentro un po' tutto alla fine dei conti alla fine proprio fine dei conti quando superi 130 bpm che puoi fare anche vabbè poi l'ho portato appunto che già non ci farebbe schifo no 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 ovvio ci sono anche qualche ragazza rimasto dal camp sì sì parliamo sempre di 130 bpm reali perché per me lo step è prima di tutto farli a mano nuda adesso se non c'è con la mano non può esserci con la bacchetta no e appunto per questo non c'è neanche bisogno di andare poi troppo ad analizzare il movimento sulla bacchetta perché non c'è bisogno di rimbalzo di superfici particolari di bacchette particolari lo puoi fare infatti suoni su tutto con tutto in qualsiasi modo più o meno sì nelle tue demo chi ti vede sì sì lo puoi fare con le mani lo puoi fare con le bacchette con le spazzole ho visto su drum channel hai suonato con le spazzole con le fruste hai fatto una demo sulla batteria devi averlo per forza nelle mani cioè io credo comunque in questa cosa a livello tecnico quasi in generale ormai forse spinto anche dal fatto che avendo i polsi che hanno già questa confidenza ed elasticità naturale anche il doppio colpo per me non esiste push pull sgomitate varie o cose così cioè sono colpi reali che partono dalla mano due colpi portati sì poi c'è il feeling l'apertura perché comunque non puoi per forza pressare sempre col polso chiuso perché poi ci sono batteristi come Virgil che lo fanno per esempio però un esercizio fighissimo che non c'entra qui singoli ma che facevo anche da piccola scuola come tutti sul banco con le penne o con le dita era questo non è un rimbalzo di dita è che se l'hai dentro però poi lo lasci quindi nel senso che comunque per me è tutto collegato al movimento del polso cioè o comunque dall'avambraccio quello che è non c'è un rilascio della bacchetta libera di farsi gli affari propri e sperare di recuperarla infatti le dita vedo che non hanno sostanzialmente un movimento è un controllo del movimento è un modo di vederla un modo di suonare che ormai fa parte del mio feeling però ci sono batteristi eccezionali che suonano appunto come sappiamo come sappiamo ci sono varie tecniche ognuno usa esatto per me infatti come insegnate non insegno insegno questa per andare veloce e migliorarsi coi polsi l'elasticità è quello che abbiamo già detto i 150 bpm se non li vuole raggiungere però io non dico mai devi tenere il fulcro così devi tenere la mano cosa ognuno ha il proprio grip naturale poi ovvio se cominci con i bambini cioè dagli principi gli devi darglielo perché non so da che parte girarsi però nel momento in cui arriva un batterista minimamente formato che ha comunque già una competenza anche se suona ancora maluccio ma comunque ha già il suo modo o glielo noti tu se sei un bravo insegnante si spera nel senso che ha un portamento normale naturale in un modo glielo lasci però se vuoi andare veloce infatti ti dicevo prima all'inizio partendo da un paradiddle non era a tempo che se ne frega ma è per dire che partendo da da colpi normali che possono anche essere casualmente Möller o quello che è perché ti trovi sul ride nella condizione di portare un tempo il piatto in un certo modo mi giro nel momento switcho tranquillamente tra l'uno e l'altro ed è quello che dico a tutti quindi non mi interessa il tuo punto di partenza se vuoi andare veloce devi cambiarti comunque cioè devi cambiare l'importazione in quel modo lì naturalmente ci sono anche i contro perché voglio parlarne di questa cosa perché questa tua skill viene a volte vista anzi spesso dai diciamolo spesso vista come qualcosa che non serve te la sei vissuta male quando hanno cominciato a romperti le scatole da questo punto di vista beh ovviamente sì e tu ne sai qualcosa che c'è nel senso quando entri in quel business in quel mondo lì dei social cioè comunque con un certo tipo di visibilità più sei esposto non c'è niente da fare poi ovvio che devi sempre rapportarti alla persona che comunque non conosci cioè non c'è niente da fare e neanche deve forse interessarti più di tanto perché penso che se un batterista o comunque una persona è abbastanza intelligente se non piace una cosa non interessa skip scroll up e non c'è bisogno di farmi sapere che ti faccio schifo hai capito o che quella cosa non è fondamentale perché ognuno ha un background non per parlare di me ma in generale se uno arriva a un certo tipo di esposizione di livello di riconoscimento eccetera o semplicemente di interesse di altri batteristi colleghi ma supereroi per me con cui sono conosciuto come Thomas o Virgil che mi chiedono come si fa o mi invitano a farglielo in faccia e ci provano e si misurano con questa cosa qua ovvio che dietro ci deve essere anche qualcos'altro cioè non è che parliamo di uno che va veloce a tagliare le caramelle come quel video là viralissimo cioè c'è dietro un background di batterista se no uno neanche ci si mette a contattarti no quindi e comunque cioè se uno vuole si informa cioè va a vedere il resto e capisce che non sei solamente un mitragliatore umano quello comunque è il final step cioè alla fine tu anche come divulgatore didattico mediatico un po' per te stesso come faccio io cioè il video sull'uovo è hype generata cioè mi interessa come a tutti noi che facciamo questo lavoro spiega che cos'è il video sull'uovo perché tu fai video anche dei video più simpatici per non dire sì esatto simpatici video da tiktok bravo ma magari ho la forchetta ho il coltello l'uovo fai queste cose credo siano carini ma una persona intelligente lo sa che è fatto per quel motivo lì non è che mi devi attaccare perché ah ma non serve ma ti pare sei un buffone vabbè ok sì lo so anch'io che in quel contesto sto facendo un po' il buffone ma appunto siamo persone intelligenti simpatici poi si suona la batteria cioè suoniamo tutti e due la batteria e sappiamo che comunque bisogna partire da quello ok certo allora un altro dubbio che usciva da questa cosa qui della velocità è ma come faccio applicarla va bene tu mi hai già detto che musicalmente quando vuoi applicarla switchi grip e cominci a usarla io ho visto come tu la applichi no per dire quindi se tu suoni tu sei in un contesto di generi oddio non voglio metterti in una categoria però è chiaro che sei più vicino a un certo tipo di extreme drumming che sei vicino al metal che sei vicino a quel mondo là per esigenza a volte anche dimostrative certo allora lì quella roba ti fa la differenza perché come tu dicevi nel metal si cerca la finger technique per suonare no super speed in questo modo hai un super speed in più tra l'altro il suono è anche potente quando ti ho conosciuto mi ricordo adesso complimenti perché ti hanno fatto tra l'altro le ho usate anche io le tue bacchette sono le mie le ho usate la promare che ti ha fatto le bacchette signature non è una cosa da poco quindi complimenti grazie me le aspettavo più leggere perché quando ti ho conosciuto usavi forse delle 5A o addirittura più leggere però aspetta ci siamo conosciuti non so cosa ho portato via quella volta potrei aver buttato in macchina quello che ho trovato la prima cosa che ho trovato però guarda allora il fatto che aveva le signature mie per carità orgogliosissimo però come abbiamo detto forchette coltelli spazzole a me non interessa il diametro la lunghezza della bacchetta onestamente perché partiamo da qua e quindi comunque a me la bacchetta si conta fino a un certo punto ed ha anche questo un aspetto secondo me molto importante cioè per dire non mi sono fatto fare la bacchetta per poter usare meglio quella tecnica ma mi sono fatto fare la bacchetta come mi piace secondo la batteria sì perché poi alla fine esatto suoni la batteria cioè la maggior parte delle volte che fai qualsiasi cosa come un solo cioè non è che stai 3 minuti a mitragliare a 150 un po' di qua un po' di là un po' di su un po' di giù cioè suoni e in mezzo c'è la chicca ma allora citerei a dire una cosa principalmente che essendo appunto un divulgatore a questo punto anche di questo genere di cose di tecnica soprattutto perché non è legata a cose che ho visto in giro l'ho scoperta sulla mia pelle il fatto che abbia conosciuto Mike visto Mike Maggini all'opera non gli ho rubato niente se non l'idea ok poi il modo in cui ci sono arrivato ha comunque una sua vita su di me personale un modo che ho trovato io di arrivarci potrebbe anche essere discutibile però visto che funziona e ho tantissimi allievi che la fanno e soprattutto quello che ci tengo a dire è che i 300 bpm arrivano con costanza ci può arrivare non c'è nessun talento naturale perché l'abbiamo detto all'inizio il mio massimo era 100 bpm non è che sono nato benedetto o tipo cioè con lo skill particolare l'ho creato e coltivato quindi è una cosa che soprattutto a mani nude va a fortificare le mani i polsi l'arto debole quindi la sinistra molto spesso come nel mio caso mi ha portato a scegliere di accompagnare di sinistra ecco tu suoni open ad esempio si suono open posso suonare vabbè scelgo anche di farlo perché comunque la coordinazione che deriva da questo movimento è diversa da quello che uno può aspettarsi suonando o studiando in un modo canonico quindi con l'impostazione più comune e allora lì sì che devi avere uno skill cioè ci sono gli ambidestri che lo fanno perché lo sentono crearlo poi vabbè è una scelta nel mio caso è stata una scelta però andare ad aumentare la coordinazione il controllo della mano sinistra senza più inciampare perché ti scappa anche se ci provi non hai il collegamento testa braccio e lì questa roba qua cioè te lo imponi perché è posturale stai lì finché non ti viene memoria muscolare da rifare o comunque da creare da lì si parte e si va sul 300 bpm se non vuole salire ancora di più però già suonando in una maniera normale i polsi li senti completamente diversi quindi per dire tutto questo ragionamento che il beneficio al di là di fare la roba sul pad o la velocità di per sé ce l'hai in generale infatti parlavo con dei tuoi ragazzi qua il camp dicevano che sentono già ma anch'io che ho fatto ho seguito un po' il tuo corso all'inizio per interesse infatti ti ho detto dopo 4-5 giorni ho detto oh Ricky io qua sto già andando non sono andato davanti io però mi ricordo il movimento mi ricordo gli esercizi ed effettivamente immagino che non ci voglia poi così tanto tempo effettivamente per avere un beneficio anche di sai se noi diciamo io arrivo a 100 bpm e devo arrivare a 110 caspita in condizioni normali ci vuole una vita perché non sono quei 10 punti anche trovarne 2 o 3 di punti ci devi lavorare ma qua il salto lo fai subito poi fai un salto quindi semmai io dico a chi è diffidente di provare almeno capire come funziona poi o al massimo tu te la prendi e te la butti via questa tecnica sai quante cose so che non uso mai come te che abbiamo studiato ho fatto mille libri e poi un giorno lo tiri fuori dal cassetto sì 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 stai facendo festival sei appena stato in Germania sì al Dresden Drum and Bass Festival sei stato negli Stati Uniti sei stato ospite alla Berkley sì ho fatto una clinica alla Berkley diciamo che sta andando tutto bene sì che obiettivi ti stai dando come vorresti migliorare musicalmente che percorso vorresti fare vorresti essere più clinician vorresti essere più performer in qualche contesto musicale tutto quanto tutto quanto direi perché nel senso non si può scegliere non avrei neanche non scelto ma immaginato di arrivare al punto in cui sono al punto sì livello ecco di notorietà ma anche di supporto da parte delle aziende che oggi quindi qualsiasi cosa perché sei diventato anche molto supportato dai marchi da Pearl cos'è che usi Sabian Sabian, Pearl Evans, Promark quindi gruppo da Dario SI Electronics Foot Blaster ti si sono aperte molte porte per così dire stai giocando bene nelle tue carte sei partito da questa cosa dell'esposizione online a volte dicono ma oggi per i batteristi non c'è spazio tu te lo sei trovato esatto questa è una cosa importante da dire però ti ha aperto il mondo su tutto il resto infatti è un consiglio che posso dare tu non sai qualcosa cioè cercare comunque di fare qualcosa cioè devi fare non ti piove addosso l'opportunità se non la cerchi non serve calcolarla per questo ti dico tutto o niente o già quello che ho o più di quello che ho Instagram o quello che hai i social sono sempre lì sono aperti e chiunque può entrarci non avrei mai immaginato di ricevere proposte richieste di lezioni contatti solo di stima dei nomi che abbiamo fatto e anche altri potrei farti una lista di nomi incredibili che mi sarei solo immaginato che mi scrivessero solo per farmi i complimenti quindi devi misurarti provarci suonare suonare tanto fare tanti errori buttare via tanta roba che registri a malincuore e rifarla sia per te stesso che per magari la registrazione che fai per i clienti per le session che hai però non c'è un obiettivo se non fare le cose fatte bene e rischiare buttarsi e farle e poi qualcosa succederà se hai come in questo caso un'opportunità con questa roba qua di aprirti una porta a un portone poi da lì entri e sei comunque nel tuo angolino esisti e sei sempre lì in mezzo agli altri immagino anche la responsabilità che senti ora nell'avere 100.000 follower su Instagram più o meno sono tanti cioè per capire i numeri per chi non lo sapesse un batterista non di una band famosa che ha 100.000 follower è veramente un numero importante lasciamo stare non guardiamo i numeri guardiamo poi quello che succede cioè sì ho 100.000 follower ma poi poi sta succedendo vai a confrontare con i grandi nomi cioè sei salito sul palco con Benny Greb l'altra sera quindi immagino che avrai anche tu di tu una voglia una determinazione di studiare di più e quello è sicuro di studiare di più di migliorare tutto il resto tutte le altre cose che no quindi si è creato si è innescato proprio un un bel pallino come direi si è innescato esattamente ciò che ho sempre desiderato che succedesse senza non crederci troppo ma senza pormi un obiettivo cioè crederci sempre ma non pensare ok devo arrivare lì devo fare la clinica con Benny Greb devo fare quel festival devi fare le cose devi farle fatte bene e se le fai bene qualcuno lo noterà punto più anche gli haters lo notano anche loro ma loro non contano niente l'importante è che se ne parli senti ultima domanda l'ho fatta tutti i miei intervistati non c'entra molto con questa roba della tecnica però devi andare a fare il disco della vita e puoi portarti un solo rullante per fare tutto ti porti quello lì che ho usato io prima che cos'è aspetta che lo prendo il Brian Fraser Moore ah il Brian Fraser Moore Pearl ovvio suona benissimo gran ferro eccolo qua 5 e mezzo tipo 5 e mezzo dai cast gran bel ferro Ricky questo suona da Dio con tutte le accordature lo prendo su io così lo provo un po' a chi dico se mi piace senti io ti auguro veramente una grande fortuna in bocca al lupo ragazzi facciamo un applauso Ricky perché non si vedono ma qualcuno è rimasto guarda il tuo tempo quindi se avete occasione il tuo sito ufficiale è www.riccardo.merlini.com ok sei su Instagram a manetta si contattabilissimo vivo col telefono in mano appena ho una notifica rispondo bocca al lupo Ricky grazie Dado grazie ciao a tutti vai ragazzi bene ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti